Dunque, io credo due dati significativi, uno l'abbiamo sentito da Luca Dondi poco fa, primo trimestre 2023, meno 8,3% del numero di compravendite residenziali rispetto al primo trimestre del 2022. È un dato negativo, certamente lo è, però queste 167.000 circa compravendite corrispondono anche a un più 3,2% rispetto al primo trimestre del 2021. Che è stato un anno per il nostro settore straordinario, ce lo ricorderemo tutti, circa 750.000 compravendite. Un altro dato che è emerso dal nostro report, dal nostro centro studi che abbiamo presentato a Roma poche settimane fa assieme a Enea, l'Agenzia Nazionale Energetica, è uno, sono due, un meno 3,4% di acquisti prima casa nel 2022 rispetto al 2021 e un più 24% invece di acquisti di seconde case. Questo cosa ci dice in maniera molto pragmatica, che gli italiani l'anno scorso hanno deciso di attingere dei propri risparmi salvaguardandoli dagli effetti inflattivi e destinarli all'acquisto di seconde case spesso destinate a locazioni brevi, a uso turistico facendo meno ricorso al mutuo. Perché sappiamo siamo uno dei paesi più liquidi al mondo, infatti sappiamo che 7 persone su 10 che acquistano la prima casa fanno ricorso al mutuo, mentre solo 3 persone su 10 che acquistano una seconda casa fanno ricorso al mutuo. I dati che abbiamo sentito anche prima e anche da quelli che emergono dal nostro report ci dicono comunque che il nostro settore, il settore in cui tutti noi operiamo, quello di viste immobiliare, credo tutti possiamo riconoscere, si conferma il vero motore dell'economia nazionale. È il comparto che ha il più elevato coefficiente di attivazione della vita economica, sociale e occupazionale del nostro paese e quindi noi crediamo che il governo, questo governo, che ha una prospettiva di guidare il paese per i prossimi 4 anni, credo dopo tanti anni, possa e debba mettere in atto quel piano nazionale sull'immobiliare che, io sono tanti anni che vengo qui a Reitoli, non solo FIAIP ma moltissimi di noi chiediamo. C'è un po' di programmazione a medio e lungo termine, non provvedimenti spot che non si sa anno su anno se vengono confermati. Un piano nazionale sull'immobiliare di tipo organico con una visione a medio e lungo termine, di tipo strategico, che si fondi secondo noi su due assi, su due pilastri. Il primo è un riordine, una riduzione della fiscalità in ambito immobiliare, ma come farlo? Due proposte, deducibilità dell'Imu anche per le persone fisiche e per le abitazioni, perché voi sapete che c'è nello strumentale e per le persone giuridiche, e la riforma delle locazioni in ambito locativo, è stata in parte citata. Su due assi, la flessibilità della durata, non solo sull'uso diverso dall'abitativo secondo noi. Oggi, anche per risolvere il problema delle politiche abitative nei comuni, secondo noi è necessario che la durata tra inquilino e proprietario possa essere concordata liberamente. Non rimanendo fissi a un 4 più 4, che è estremamente rigido, in un periodo in cui si parla di flessibilità, di essere più dinamici. Ecco, credo che questo debba essere attuato. E il tema del rischio locativo. Per entrare in possesso del proprio immobile ci vogliono mesi, mesi, anni. Allora, trasformiamo il contratto di locazione in titolo esecutivo. Questa è una cosa che abbiamo già proposto in Commissione di Giustizia, recentemente alla Camera. È una cosa che si può e andrebbe a facilitare, no? La restituzione, o meglio, reintegro appunto, della proprietà immobiliare. Perché questo è un grande problema. Queste tre cose che ho appena definito, cioè la fiscalità definita, il rischio locativo per morosità e la flessibilità nella durata, guarda un po', sono le tre leve che spingono il cittadino, o meglio l'investitore, a comprare l'immobile e a destinarlo a una locazione breve, spesso per finalità turistica. Perché nella locazione turistica non ci sono queste problematiche qua. C'è una flessibilità della durata, il rischio locativo per morosità è inesistente perché si paga in anticipo e c'è una reddittività medio alta. Quindi, qui è stato citato prima, c'è un tavolo di confronto presso il Ministero del Turismo a cui noi partecipiamo, abbiamo fatto due incontri con il Ministro Santanchè il 23 marzo e il 6 giugno e detta molto sinteticamente, noi siamo d'accordo con le intenzioni del Ministro Santanchè sul riordinare, non fare una nuova regolamentazione, riordinare le otto normative nazionali esistenti più tutti i regolamenti comunali e regionali, spesso contrastanti tra di loro, riordinare e semplificare le procedure, armonizzandole, legate agli adempimenti dei proprietari e o dei gestori professionali come noi agenzie immobiliari, rispetto allo scenario attuale. Quello, siamo d'accordissimo, un unico codice identificativo nazionale, un unico adempimento digitale a un'unica banca dati nazionale che sia questa banca dati ricevente a trasferire a tutte le altre banche dati, questura, agenzia delle entrate, regione comune e forse banca dati europea perché si parla di costituirla. Questa è una reale semplificazione, ma non condividiamo l'approccio, in parte prima citato, di introdurre limitazioni di vieti chiusure, in particolare limiti temporali al diritto, in teoria costituzionalmente garantito del proprietario, di poter affittare liberamente il proprio immobile, spesso e volentieri acquistato, con i risparmi di anni e anni di sacrificio. Non sono tutti ricchi quelli che hanno una seconda casa, c'è chi l'ha ereditata, c'è chi se la sta comprando per poi darla e lasciarla magari a un figlio che adesso è giovane. Quindi la nostra visione è molto chiara. Poi qualcuno mi dice, ma Baccarini, ma perché vi interessate così tanto delle locazioni brevi a uso turistico? Ma scusate, i numeri ci dicono che negli ultimi sei anni è il settore che in assoluto ha attratto di più l'investitore in Italia, nel nostro mercato immobiliare. Bello, brutto, giusto e sbagliato? Per i motivi che ho detto prima. Quindi abbiamo tutti interesse a far sì che un settore che porta dinamicità al mercato immobiliare, cioè al nostro mercato, sia salvaguardato. Poi ci sono alcune amministrazioni comunali, in parte è stato citato, non per fare nomi e cognomi, ma il sindaco di Milano Sala, Roma Gualtieri, avvelenatissimo in Ardella Firenze, avrete letto nei giornali, ma anche Lepore a Bologna, Brugnaro a Venezia, non è un fatto di colore politico. C'è proprio un'intenzione di dire, io sindaco, io amministrazione comunale, ho due problemi veri, reali, spopolamento dei centri storici da parte dei residenti, emergenza abitativa, non ho le case, non ho le abitazioni, per chi non si può permettere di comprarle o per i lavoratori fuori sede o gli studenti universitari fuori sede. Problemi reali, ma non può essere un approccio della politica con la P maiuscola quella di risolvere il problema limitando il diritto di affittare per periodi brevi a una notte o a massimo 120 notti. Noi abbiamo una nostra proposta su questo, è vero, c'è una scarsità di offerta di case da vendere e affittare, lo diceva anche Dondi, c'è, è reale a Milano in particolare ma non solo, come fare? Molto pragmaticamente secondo noi va aumentata l'offerta delle case e delle abitazioni. Sembra una cosa, però noi che siamo operatori del mercato, se aumenti l'offerta, domande e offerte, i canoni e i prezzi tendono a calmerarsi e soprattutto c'è il materiale immobiliare abitativo per chi lo desidera. Secondo noi va fatto con una collaborazione sinergica tra pubblico e privato attraverso però una cabina di regia a livello nazionale. Non si può lasciare agli intenzioni benevoli o virtuosi di un singolo sindaco, magari anche, come dire, spinto da strumentalizzazione del proprio partito. Noi abbiamo proposto l'istituzione del ministero della casa e delle politiche abitative. Qualcuno si è messo a ridere dicendo Baccarini, un altro ministero, un altro apparato di burocrazia, costi? No, al contrario. Se è vero che il nostro settore cuba un terzo del pilo, addirittura di più, se associamo anche al settore turistico immobiliare, non c'è un ministero che è dedicato al nostro mondo, che secondo noi debba e possa avere una visione di insieme del settore della casa, attuare una strategia nazionale delle città, attuando delle precise linee guida, lo voglio sottolineare delle precise linee guida per tutti i comuni, che prevedono da una parte l'ideazione, l'attuazione di un piano strutturato di edilista sociale pubblica convenzionata assente da oltre 70 anni, attraverso la riqualificazione di quell'ingente parte di patrimonio pubblico in disuso, inutilizzato e dismesso, e qui è in coerenza con la transizione ecologica che tutti desideriamo, e mettere questi immobili a disposizione a prezzi convenzionati o a canoni calmerati di chi non può permettersi di acquistare la casa, studenti, lavoratori e quant'altro, e dall'altra parte i piani strutturali comunali devono prevedere, e qui la collaborazione col privato, dei criteri incentivanti per l'iniziativa privata, sia di natura fiscale, e li abbiamo già citati, sia meccanismi tecnico-urbanistici. esempio, demolisco, ricostruisco, quando ricostruisco mi dà l'opportunità di avere più cubatura, fare un piano in più nel rispetto dei vincoli di PSC e quant'altro, oppure, prima Dondi diceva ci vogliono politiche più immediate e più veloci, benissimo, perché non agevoliamo e consentiamo i cambi di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione, gli uffici hanno già il rapporto luminosità, la razionalità interna dei vani, gli impianti a norma, anche la tipologia si presta, molti uffici sono vuoti, sono vuoti, anche per il post pandemia con lo smart working, allora, questa si può fare domani questa cosa, e aumentiamo l'offerta, questo porta benefici trasversali, diciamocelo, trasversali per l'economia, per il mercato, per noi operatori professionali, per la collettività, quindi chiudo, l'invito che desidero fare è facciamo rete e sistema anche nella comunicazione, perché è vero, ci sono i timori dell'inflazione, ci sono i timori legati all'ottavo aumento dei tassi di interessi, si parla del nono, le conseguenze incerte del conflitto militare in Ucraina, ce lo ricordano tutti i giorni, tutti i TG, benissimo, ma vivere nella sfiducia e nell'allarmismo e nel terrorismo, io credo che non sia una cosa positiva per noi operatori e per il mercato, certo ci sono legittime preoccupazioni reali, concrete, però io credo che l'inflazione se da una parte riduce la capacità di spesa e di risparmio delle famiglie italiane, dall'altra parte stimola l'investimento immobiliare, questo non lo dico io, lo dicono i dati, lo dicono i numeri, i tassi di interesse sono alti, verissimo, ma qualcuno si ricorderà negli anni 80 che erano il 20, il 22, il 24%, si parla di un 4, 4 punte qualcosa, certo, meglio che siano più bassi rispetto allo zero di qualche tempo fa e siamo il paese più liquido del mondo, ricordiamocelo, quindi fiducia e ottimismo che sono elementi fondamentali per la dinamicità del mercato immobiliare in cui tutti noi operiamo e questo determina dei benefici oggettivamente trasversali per l'economia, per il mercato, per la collettività e per gli operatori professionali. grazie a tutti. 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 grazie a tutti.